Cari amici, leggo testualmente. L'Austria rinvia gli obblighi vaccinali ad aprile invece che a febbraio. La Germania abbandona l'idea. La Spagna vuole affidarsi all'immunità naturale e classificare il Covid come influenza. In Inghilterra la vita è tornata alla normalità, senza passe e senza mascherine. Stessa identica cosa in Scozia e in Irlanda. In Danimarca tutte le misure decadono. Dal 16 febbraio anche il governo svizzero in Svizzera è deciso a fare altrettanto. In Repubblica cieca l'idea di un obbligo vaccinale è abolita. Alla lista vanno aggiunti fra gli altri Malta e l'Olanda. L'OMS si oppone a ripetute dosi di richiamo. L'OMS è contraria a limitazioni di viaggio con 2G, internamente all'Europa. Israele non obbliga più alla quarta dose. In troppi la rifiutano. E anche il ministro della difesa in carica, Benny Gantz, con quattro dosi si è preso il Covid. In Quebec, Canada, la terza dose non è più consigliata a persone oltre i 70 anni, perché gli effetti collaterali sono troppi e troppo grandi. La Bosnia e l'Herzegovina diventeranno il primo paese europeo a rifiutare ogni forma di passaporto Covid. La Corte Suprema USA ha appena bloccato l'ordine del Presidente Joe Biden di vaccinazione o test Covid-19 nelle grandi aziende. Una politica che i giudici conservatori vedono come un onere in debito sulla vita e la salute di molti americani. La Cina e la Russia hanno sviluppato un vaccino, un vaccino classico e non una terapia genica, motivo per cui il loro vaccino è rifiutato dallo Stato francese. Aggiungiamo che in Canada il primo ministro Trudeau, massone e pedo satanista, si è dato alla fuga e nessuno sa esattamente dove sia. Draghi e speranza, draghi e speranza, rimaniamo solo noi, rimane solo l'Italia. Volete continuare? Volete continuare? Chiedetevelo. Volete continuare? Vale la pena continuare a vessare il popolo italiano? Vale veramente la pena? Cosa c'è sotto? Fate un'operazione trasparenza, parlate, parlate. Anche perché poi esiste il karma. Draghi lo sa, se ne sta rendendo conto in questi giorni, in questo periodo, e avete visto che il karma è potentissimo. Ci vuole niente, basti guardare Giuliano Ferrara. Il karma non dà scampo. Giorgio Riccardin, canale storico YouTube. Poi c'è Giorgio Riccardin 2, a cui vi invito ad iscrivervi sin da oggi. E su Telegram c'è il canale Giorgio Riccardin. Il tempo è galantuomo con tutti.